Io non potevo nemmeno immaginare quello che mi sarebbe accaduto. Non avevo alcun sintomo. Niente che potesse farmi intuire la mia situazione. Per Nancy e suo marito Frank è un tranquillo fine settimana. Mi sentivo solo più affamata del solito. Sono sul punto di andare a pranzo quando, all'improvviso, Nancy avverte dei forti dolori all'addome. Così forti da farle perdere il controllo. Oh sì, sì, certo. Avevo preso regolarmente la pillola datami dalla mia ginecologa. Il dolore sembra scomparire e Frank invita dolcemente Nancy a sedersi. Ma mentre stanno pranzando, ecco che la fitta ritorna, più acuta di prima. All'improvviso quel dolore. Così forte. Lancinante. Non sapevo davvero cosa fare. Frank intuisce che qualcosa non va e chiama tempestivamente il 995. Quindi cerca di sollevare Nancy, ma lei preferisce rimanere a terra. Il mio corpo mi diceva che dovevo rimanere in quel modo. Non so perché. In attesa che giungano i soccorsi, Frank cerca di aiutare Nancy, ma la situazione precipita in pochissimo tempo. I dolori si fanno lancinanti, mentre una perdita di liquido mista a sangue getta Nancy e Frank nel panico. Ma a quel punto, Nancy sente che qualcosa dentro di lei preme per uscire. E allora Nancy spinge con tutte le sue forze. Spinge! 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 Ha continuato così per due ore. Io non riuscivo a credere ai miei occhi. Quando finalmente giungono i soccorsi, il personale del 995 si trova di Nancy una scena incredibile. Io non sapevo di essere incinta di Buddy.